Siamo con mister Ferraro, con cui andiamo ad analizzare la giornata appena trascorsa del campionato di promozione, quattordicesima, la fuga della sua squadra, la Forza e Coraggio, e le altre cose che stanno succedendo in questo scorcio anche di campagna riparatoria del campionato di promozione. La Forza e Coraggio o Espugna Forino o solo il Sant'Omaso riesce a stare in scia, il resto o annaspano o addirittura perdono contatto. È un momento provizio anche perché recuperate tutti gli infortunati, facendo a me nella gara di Forino, diciamo subito, di due pedine importanti, quali Massaro e Riccio, però ha dimostrazione che la Forza e Coraggio non è solo dei veterani ma anche dei gregari, quindi sicuramente è grosso merito a Pasquale Ferraro, ma una Forza e Coraggio che ora fa veramente paura. Sì, diciamo che abbiamo trovato la quadratura totale del cerchio, nel senso che c'è stato un momento di sbandamento, un momento dove non avevamo perso qualche certezza nei nostri mezzi, poi con il lavoro e la serietà dei giocatori che mi ritrovo, il presidente che è il nostro valore aggiunto, abbiamo fatto, ci siamo guardati in faccia, e adesso insomma si stanno vedendo i frutti di questo lavoro oscuro che è stato fatto nei momenti neri. Certo è che non abbiamo ancora fatto niente perché per adesso abbiamo soltanto tirato fuori il nostro carattere e le nostre capacità. Adesso c'è bisogno di continuità, quella continuità che tra l'altro abbiamo già dalla terza di andata, perché dalla partita di Santo Maso che comunque abbiamo fatto nove vittorie e due pareggi, non sono pochi. Adesso, ripeto, dobbiamo soltanto continuare così, la vittoria di Forino ci ha dato veramente qualche certezza in più nei nostri mezzi, perché vincere su quel campo con le assenze comunque importanti, la battaglia di Forino senza altro ci ha dato la giusta linfa per essere fiduciosi per il futuro. Senti Pasquale, parlando un pochino del camionato di promozione, forse coraggio 37 gol fatti, 17 subiti, forse un tantino tanti gol che ha subito la squadra, per questo avete, almeno notizia la do in anteprima, perché me l'hai detto prima, avete preso un portiere che forse senza non togliere a Credentino e a Girolamo è un po' di esperienza anche se nei giovani serve e quindi avete preso un portiere dalla San Marco ai Trotti, poi ne parlerai tu, però avete puntellato anche con Calabrese perché avete un infortunato di troppo. Quindi diciamo che puntellando la difesa con i due bomber che vi trovate lì davanti, il quadro è chiuso. Sì, numericamente adesso siamo a posto, aspetto Riccio e Mesisca che hanno qualche problemino ma è questione di giorni, per il resto siamo bene così, abbiamo preso il portiere che già avevamo preso in estate, poi per tante vicissi tutimi il ragazzo preferì andare a giocarsi la carta in eccellenza, adesso è tornato da noi, è un ragazzo di qualità e di prospettiva, si giocherà il posto con gli altri due che già ci sono e quindi probabilmente prenderemo anche Giuseppe Zotti, ex portiere del Benevento, dell'Ebolitano, per mettere insieme a questi giovani anche un portiere esperto e a quel punto lì siamo a posto, con Giuseppe Calabrese abbiamo messo a posto anche la difesa. Abbiamo fatto tutto quello che c'era bisogno, adesso sta a noi fare quello che stiamo facendo. Dobbiamo pensare solo a noi e continuare a lavorare come stiamo facendo. Uno sguardo alla quindicesima giornata, ultima per il 2013 e andiamo a chiudere questa breve chiacchierata. San Tommaso guardia Montesarchio, è un incontro verità, forse il risultato che più farebbe piacere alla Forza e Coraggio, è un pareggio soprattutto o anche perché si allungherebbe in classifica. San Tommaso andrà da Rino Gaito che sta facendo capire quando può dare un allenatore al calcio, cosa che molti avevano dimenticato. Forza e Coraggio ha un ostacolo non morbido tra le muramiche, quindi sicuramente una giornata particolare. E infine ci sono le due squadre a Ripalda che giocano con le due squadre della Valle, con il San Martino e con il Cervinara. In tutta questa giornata ne potreste approfittare qualora riusciste a vincere in casa, dove è il vostro fortino? Hai detto già tutto tu. Io anche altre volte ho detto sempre che dobbiamo pensare a fare i nostri tre punti, poi giustamente dagli altri campi ci aspettiamo le notizie che più ci fanno piacere. Però comunque è uno scontro diretto quello tra Guardi e Montesarchio, quindi qualsiasi risultato, ammesso che non concesso, vincessimo noi in casa sabato, quindi qualsiasi risultato sarebbe favorevole a noi dopo una nostra eventuale vittoria. Però certo che il nostro compito rispetto a quello del Montesarchio e del Guardia stesso è un po' più agevole, anche perché probabilmente non giocherà Torsillo perché è squalificato, però dobbiamo sempre aspettare il comunicato. L'ammunizione presa domenica da Torsillo è la quarta, quindi questa è un'ulteriore buona notizia, perché è un giocatore che se in giornata e se non guardato bene è uno che ti punisce, quindi giocatore che fa la differenza, non dovrebbe giocare. Quindi noi sono fiducioso perché vedo finalmente una squadra consapevole dei propri mezzi, quindi speriamo bene, poi dagli altri campi ci aspettiamo buone notizie, magari l'amico Rino ci fa l'ennesimo piacere e ne saremo ben lieti.